Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, lunedì 18 marzo. Vi ricordo che questa sera ci sarà Quarta Repubblica alle 21.25, quindi state tutti collegati a Rete 4. Le notizie di giornata sui giornali riguardano ancora un presunto scontro, ma insomma il presunto ce n'è poco, c'è poco di presunto perché lo scontro nelle frasi c'è tutto tra Matteo Salvini e Di Maio e lo scontro nasce dal fatto che Matteo Salvini, c'è anche un'intervista di Armando Siri, il grande ideologo della flat tax, Matteo Salvini chiede che dall'anno prossimo, buongiorno Maria Assunta, anzi un saluto prima che vi niente a Edio Carioca che ci segue sempre dal Brasile, allora Salvini chiede una flat tax al 15% nel 2019 e Di Maio gli risponde no a promesse stile Berlusconi, insomma una specie di attacco sanguinario secondo i canoni della politica nei confronti dell'alleato di governo. La flat tax dice Salvini però è nel nostro programma, lo dice anche Siri e ieri ci sarebbe il terzo incomodo, cioè il Ministero dell'Economia che fa trapelare, cosa che a pappagallo rispondono tutti quanti ovviamente i rappresentanti del Movimento 5 Stelle intervistati oggi dai giornali, mi sembra Patuanelli sia uno di questi, il capogruppo dicono ma che cosa dite? La flat tax costa 60 miliardi e quindi non è fattibile, io aggiungerei che oltre i 60 miliardi della flat tax ci sono 28 miliardi che sarebbero da recuperare per evitare l'aumento dell'IVA, tu non puoi fare una flat tax sulle famiglie fino a 50 mila euro di reddito e poi dopo aumentare l'IVA di due punti percentuali. Perciò il punto fondamentale, ce lo spiega oggi Siri e sono i numeri, questi 60 miliardi secondo l'ideologo della flat tax del Movimento 5 Stelle sono largamente eccessivi perché dice che la flat tax per le famiglie fino a 50 mila euro di reddito familiare, cioè mettendo tutti dentro, costerebbe tanto sicuramente ma molto meno di quanto oggi dicono i grillini, cioè solo 25 miliardi di euro, si fa per dire solo, però basti pensare che oggi quota 100 e il reddito di cittadinanza costano mi sembra 15 miliardi sommati, la flat tax dell'anno prossimo porterebbe a un buco iniziale di 25 miliardi, io che la penso esattamente come Siri, penso anche che dopo il primo buco iniziale ci sarebbe un vantaggio per le casse dello Stato perché ritornerebbe a marciare l'economia. Altra questione fondamentale economica è la questione del salario minimo. Chi di voi, buongiorno a Marco che vedo che si collega, Françoise in questo momento collegata anche lei, chi di voi non è d'accordo sul fatto che ci debba essere un salario minimo per chi si fa un mazzo così, tra l'altro i salari minimi vanno per quelli che fanno in genere i lavori minimi, cioè i lavori meno gratificanti o i lavori che non si vogliono fare, quindi proprio perché sono lavori che non si vogliono fare probabilmente se ci dovesse essere una legge della offerta e della domanda probabilmente quei lavori potrebbero essere pagati un po' meglio. Buongiorno a Paolo, l'unico commercialista che io seguo. Allora che cosa succede col salario minimo? Col salario minimo però la cosa che l'economia ti insegna, oggi vedrete un pezzo di Antonio Martino sul mio sito straordinario sulle esportazioni, una lezione di economia come sanno fare sono i liberali, con il salario minimo succede quello che oggi certifica l'AssindatColf, nome complicato per dire che è l'associazione che si occupa delle colf. Cosa dice? Se noi aumentiamo il salario minimo orario a 9 euro, cioè meno di 9 euro non puoi pagare una colf. Sapete che succede? Che lo stipendio minimo di una colf oggi sarebbe di 2.100 euro. 2.100 euro. Buongiorno a Salvatore da Londra. In Italia 2.100 euro non sono i 2.100 euro di Londra. Secondo voi quale sarebbe il comportamento degli italiani se dovessero pagare 2.100 euro per una colf? Allora ci sono due opzioni. La prima opzione è che non assumono più colf. La seconda opzione, che sarebbe comunque negativa, la seconda opzione sarebbe quella di assumerle in nero. E voi dite, è il solito esagerato. Sapete quante sono le colf in nero calcolate sempre dall'AssindatColf in Italia? 1.100 famiglie avrebbero assistenza in nero, 890.000 invece iscritte all'Inps. Molti di voi, compreso il Presidente della Camera FICO, hanno qualcuno che gli aiuta a casa. Bene, quanti di voi pagano i contributi all'Inps per le ore giuste, per i contratti giusti e tutto giusto? Ecco, punto di domanda. Secondo l'AssindatColf, uno la paga giusta e uno e mezzo invece evade, compreso, mi sembra, la fidanzata del Presidente della Camera che non pagava la sua colf. Allora noi che facciamo? Facciamo le leggi per cui si aumenta il salario minimo e poi dopo che si fa? Non si pagano le colf, si evade perché si fa quello che si fa quando il costo del lavoro è eccessivo. O no? Va bene? 2.100 euro, tutti devono fare le colf, dice qualcuno qua. Non lo so se è un lavoro duro, se piace a tutti, tutti, ma comunque sia 2.100 euro è certamente quanto non prendono molte persone oggi con lavori, diciamo, di altro tipo impiegatizio. Bella l'intervista oggi a Persilvio, in genere non dice nulla l'amministratore delegato della mia azienda, nel senso che come tutti gli amministratori delegati sono piuttosto silenziosi, oggi c'è una parte macro per la quale lo cito in questa nostra rassegna, dice ma il passato governo, quello dei fenomeni di Renzi non ci fece fare l'acquisto delle torri che sono i tralicci per cui trasmettere il segnale televisivo che a differenza della rete delle telecomunicazioni non hanno intelligenza, sono pezzi di ferro, beh non ce l'ha fatte comprare, avremmo pagato un miliardo. Questo governo chiede 3 miliardi per le privatizzazioni, se vogliono far crescere queste aziende, questa Italia, pensassero a un'Italia che non dico aiuti, ma che non ostacoli, dice giustamente Persilvio, le aziende nazionali, se no poi arrivano Google, Facebook e gli amichetti vostri che vi fanno un mazzo così. È questo che volete? Le colfe non lavorano a tempo pieno, io e la mia pagavo 12 euro, l'euro, 4 ore ogni due settimane e molti, è vero, quelli che dicono che pagano 12 euro ce ne sono tanti e quindi quelli pagherebbero il salario meno. Buongiorno Laura e buongiorno Chiara Giannini che ha scritto un bellissimo libro che vi consiglio a tutti. Crolla il numero dei migranti? Crolla il numero dei migranti da 5945 del 2018 a 335 del 2019. Allora quelli che dicono che non è servita proprio niente la voce grossa di Salvini qualche errore l'hanno commesso, perché già erano pochi fino a marzo dell'anno scorso, ora sono ancora di meno, quindi un passaggio da una tesi all'altra c'è stato, buongiorno a Marco che ci sta vedendo, poi a questo si aggiungono 1.354 espulsioni, direi che è la prima volta negli ultimi dieci anni in cui le espulsioni sono superiori alle immigrazioni, 5 volte gli espulsi rispetto agli immigrati. Allora questo sarà pure un dato, poi è anche vero che le espulsioni sono ancora insufficienti, ma tu pretendi che metti al ministero degli interni un ministro e un governo dei ministri che riescono a buttare a mare, perché questo si vorrebbe, 800 mila persone, 700 mila persone in un giorno. Certo questo governo lo prometteva che li avrebbe cacciati via tutti, non ci riuscirà. Detto questo accontentiamoci come direbbero gli economisti di un second best, per cui stanno entrando in Italia meno persone rispetto all'anno scorso e ne stanno uscendo di più. Voglio dire, nel futuro bisognerà avere una regolazione dei flussi, non queste robe fatte a cavolo. Interessante perché le procure di Sicilia dicono invece che ci sono molti sbarchi fantasma, non gli va mai bene nulla, e cioè persone che vengono dalla Tunisia senza che vengano rigestrate attraverso i barconi, ma vengono in maniera clandestina, e questo sicuramente è un problema, mi chiedo se non ci fosse anche nel passato. Bonafè, il Ministro della Giustizia, parla a Repubblica e dice due cose, cioè se oggi la Lega ci racconta la flat tax, lui ci racconta l'aumento delle pene per le violenze sessuali, i maltrattamenti e lo stalking nei confronti delle donne, stare dalle parti delle donne. Allora mi chiedo, stiamo attenti perché oggi abbiamo creato dei reati incredibili e che non riusciamo a perseguire, e il problema è creare dei nuovi reati, creare e aumentare il nostro codice di procedura penale, o cercare di perseguire in maniera intelligente e ben fatta coloro che subiscono maltrattamenti, stalking o violenze sessuali, insomma io forse più nell'applicazione empirica delle leggi che nella visione dittale delle norme mi convincerei. Tra l'altro sul convegno di Verona da una parte si difendono le donne con queste leggi, diciamo bandiera, dall'altro si dice che a Verona c'è una concezione della donna spostata indietro di qualche secolo. Non lo so se sia così, ma detto dal ministro della giustizia è un altro di quei vulnus insieme a Salvini e Fontana, ministro della famiglia di questo governo. Singretti diventa segretario del PD in maniera ufficiale, conclamata e per folli sulla Repubblica il suo obiettivo ora è arrivare a lezioni anticipate. Intanto dice cambierò tutto e nel cambiamento mi viene da ridere nomina presidente del partito Gentiloni, sai che cambiamento, Gentiloni, cioè c'è dei pantaloncini corti che sta da quelle parti e però c'è tesoriere un altro grande cambiamento, il cambiamento è Zanda. Allora io non lo chiamerei cambiamento, lo chiamerei epurazione corretta di tutti gli uomini renziani che hanno gestito come cavoli a merenda quel partito, ma chiamarlo questo cambiamento mi sembra un po' forte. Questa è semplicemente la ristrutturazione del vecchio PD in bocca al lupo, in bocca al lupo che gli fanno secondo me con due pezzi belli, molto belli, sia capezzone sia guzzanti, capezzone sulla verità e guzzanti il fondo del giornale in cui prendono giustamente, sfottano questo governo che da Gramsci a Greta ha un pantheon diciamo straordinario di nuovi leader. La storia di Casillo è una storia pazzesca, dovete leggerla, è un imprenditore arrestato, hanno arrestato anche il fratello, la sorella, hanno affrettato anche il cugino perché avrebbe importato in Italia del grano radioattivo. Come è finita? È finita molto semplicemente che lui ha cercato di fare il patteggiamento dopo che aveva capito di essere finito in una macchina infernale, non gli hanno concesso il patteggiamento e dopo, perché gli aveva proposto il PM stesso, e dopo è stato completamente assolto, ovviamente potete immaginare voi con quali disagi, sorella arrestata, fratelli arrestati eccetera, ma oggi in un'intervista ci spiega che in realtà lui era stato arrestato, sapete da chi? Dai due magistrati beccati a prendersi le tangenti e corruzioni in atti giudiziari arrestati e in galera, i quali pretendevano da Casillo soldi perché non indagassero su di loro. Ricordatevi la storia di questo Savasta e di quell'altro suo collega di cui non mi ricordo il nome, due magistrati corrotti che hanno distrutto un pezzo di economia pugliese. Ce ne sono altri magistrati di cui non posso fare il nome, penso alla Sardegna, penso in un luogo particolare della Sardegna, che non so se sono corrotti, anzi forse non lo sono, ma sono talmente fissati che stanno rovinando quel cavolo di alcune situazioni economiche in quel paese. Ovviamente se io dico una cosa di questo tipo vengo arrestato immediatamente e bisogna temerlo purtroppo in questo paese, perché un giudice può privarti della tua libertà. Quello che è successo a Casillo dovreste leggerlo, leggerlo. No, Francoise, per una volta non è Woodcock. Soldi arabi alla scala sarebbero già arrivati, Giannino della Fattina dice ragazzi non fate gli ipocriti, lo dice sul giornale, i soldi non puzzano, gli arabi ci sono sempre stati, a Milano hanno metà dei nuovi grattacieli, non mi sembra che ci siano donne che girano col burca né che loro abbiano imposto la sharia. Quindi lo stesso giornale sembra un po' in contrasto con la tesi di Fontana, presidente ottimo leghista della Lombardia che invece su questo non vuole che arrivino gli arabi nella scala. Montanari su Greta è l'unica cosa che vale la pena, l'eroina dell'ambientalismo oggi e dunque Greta siccome ha una forma leggera di autismo, diversa di autismo, dunque si trova ad essere discriminata, a me va tutto bene, ma adesso che Greta sia discriminata, secondo me è discriminata la testa di Montanari se pensa che Greta oggi sia discriminata. Ultima notizia che vi regalo perché solo il messaggero ce l'ha in quel pistarolo che si chiama Rosario Di Mito, che conosco dai tempi di MF, era quello che andava a trovare il segugio delle notizie finanziarie e devo dire che interessante quella che oggi lui scova e ovviamente il messaggero piazza in prima pagina, all'Italia alla fine l'accordo lo farà soltanto con Delta che prenderà il 10% delle azioni di Alitalia, che vuol dire che le ferrovie dovranno prendere il 40, un altro 15 lo dovrà prendere il tesoro se siamo a 55, dovremo trovare un altro 15% di soldi pubblici per interagliare l'Italia, quindi sostanzialmente tutta questa storia che cosa ci porta a una piccola fetta di Delta all'interno di Alitalia e il resto una l'Italia pubblica. Non è questa la conclusione a cui arriva Di Mito, è la conclusione a cui arrivo io se gli americani mettono solo il 10% e ci mettono la mano sul fuoco come i piad, cioè gli arabi che avevano una partecipazione all'Italia, prenderanno quel 10% che sapranno gli ritorna inutili, in rotte, in traffici, in accordi commerciali nel giro di un anno, perché è chiaro che oggi chi conosce l'Italia, ai conti dell'Italia, ci sta il più lontano possibile. Delta è come l'Italia, dice qualcuno, non lo so. Io direi che per il momento è tutto, io vi dico che questa sera avremo uno scontro Boschi-Molteni, non è uno scontro, è un confronto tra la vecchia politica del PD, la Boschi-Referendum, Buongiorno a Rita e la nuova politica del governo che è quella della Lega e poi ovviamente l'ambientalismo con tanti personaggi secondo me interessanti e continueremo su quella incredibile inchiesta che abbiamo fatto sui rider, come sapete quelli che vi portano il cibo a casa, mi è successo anche a me ieri sera, un ragazzo molto simpatico, straordinario, nessuno ce l'ha con i rider né con le società dei rider, ma a Milano quando noi facciamo le manifestazioni dicendo le grandi manifestazioni contro l'intolleranza e per l'accoglienza, questa sera vi dimostriamo come vengono utilizzati gli immigrati irregolari per portare il sushi a casa di quelli che fanno le manifestazioni tricolore in zona 1. Direi che per il momento è tutto, vi do un appuntamento come sempre questa sera sul sito nicolaporro.it e tante altre notizie. Ciao!